E' stata ricoverata ieri in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del Santa Croce di Fano. La tredicenne ritrovate esanime nella piscina del condominio Cesano Mare. La ragazzina di nazionalità senegalese era stata affidata dai genitori e agli zii che abitano in uno dei 69 appartamenti di questo edificio, in via Litorania a Marotta. Lo zio, dopo aver pregato in occasione del Ramadan, non vedendo più la nipote, si è affacciato fuori verso la piscina e lei era lì, ma immobile, e a faccia all'ingiù. Allertato al 118, dopo i primi soccorsi è stata trasportata dall'ambulanza all'ospedale Fanese. Erano circa le 18, quando è stata ricoverata con diagnosi di sindrome d'annegamento. Infatti pare che dopo un tuffo nell'acqua alta il suo corpo esile non l'abbia aiutata nel risalire a galla e a raggiungere il bordo della piscina. A fare il punto delle sue condizioni cliniche è stato Augusto Sanchioni, direttore facente funzioni dell'unità di anestesia e reanimazione. La tredicenne oggi era sedata, intubata e in ventilazione controllata. I parametri emodinamici sono stabili, la diuresi si mantiene valida, ma la prognosi rimane riservata. Ad eseguire gli accertamenti e a fare un sopralluogo sono stati i carabinieri della stazione di Marotta che hanno compilato una relazione sia per la procura ordinaria che per la procura dei minori.